Lo riconoscete questo cucciolo? Secondo me no. Vi ricordate quel cucciolo paurosissimo che ringhiava dietro la cuccia? Sì, il fratellino di Desi. Eccolo qui, è uscito dall'addietro, in questi giorni ha avuto modo di socializzare grazie a Roberta che è venuta sempre a trovarlo, a coccolarlo e a portare gli bocconcini buoni. E adesso lui è più tranquillo, bravo cucciolo, si fa accarezzare, vuole venire vicino. È sempre un po' più spaventato di Desi, però è solo un cucciolo, abbiamo tutto il tempo per recuperarlo e ormai il processo di recupero è cominciato. Poi c'è Desi che gli dà il buon esempio e questo vecchietto che gli fa da papà, ma lui tornerà libero. Il piccolo dolcissimo cucciolo lo abbiamo chiamato Duffy. Vi piace questo nome? Desi e Duffy. Gliela troviamo una famiglia a questo piccolo? Se non avessimo insistito con lui sarebbe cresciuto come un cucciolo terrorizzato. Nessuno l'avrebbe mai scelto e sarebbe morto in canile. Però ora, dopo quello che abbiamo fatto, premiateci, adottatelo, chiedetelo questo piccolino in adozione. Non lo scartate, soltanto perché è un cucciolo semplice. Sì, non ha gli occhi azzurri, non è di un colore particolare, però è un amore. Taglia media contenuta. Buonissimo. Quanto ha? Quattro mesi, quindi. Quattro mesi significa che cresce ancora poco. Taglia media contenuta, lo possiamo dire con certezza. Povero amore. Soffre tanto il caldo. In questi giorni i box sono dei forni crematori, veramente. Dobbiamo tirarli fuori questi piccoli. Non è giusto farli vivere in queste condizioni. Non è giusto. Lui è un cucciolo che merita una mamma e un papà umani. Desi, vi devo dire la verità, ha una richiesta di adozione, ma dobbiamo ancora valutarla. Quindi vedremo se alla fine andrà o non andrà in questa famiglia. Eventualmente chiedeteci lui, quindi. Però chissà. Io spero che vada, che la richiesta di adozione sia quella giusta, così almeno Desi comincia ad uscire. Però poi il fratellino Duffy, che facciamo? Lo lasciamo qui? Tutto solo? No, assolutamente. Questa ruffiana è riuscita ad attirare l'attenzione, è un amore, ma anche lui. Guardate la codina. Fai vedere la codina? Che scodinzola. Eccola qui. Adottatelo. Seriamente, eh? Fate un pensiero, ma proprio serio e deciso. Tiriamolo via di qui. Buona fortuna, piccolo Duffy. Speriamo bene, piccolo. Ciao. 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 Ciao.